Signor Presidente della Repubblica, Segretario Generale Lossertale, Ministro Bonisoli, Governatore Fontana, Sindaco Sala, Ministri, Ambasciatori, Autorità, Curatori e Progettisti dei Padiglioni Internazionali, Cari amiche e cari amici. Nei decenni passati, a partire dal 1923, le esposizioni internazionali della Trenaria di Milano hanno coinvolto designer, architetti, artisti, scienziati da tutto il mondo, chiedendo loro di suggerire soluzioni e idee per risolvere le grandi questioni della contemporaneità. È stato così nel 1947 con la triennale sulla ricostruzione, nel 1951 quando il tema fu la produzione in serie e la standardizzazione, nel 1988 con la riflessione sul futuro delle città e nel 92, 27 anni fa, anno del primo summit della terra a Rio de Janeiro, quando per sei mesi il mondo si riunì a Milano per parlare con una scelta coraggiosa e anticipatoria della grande sfida ambientale. Inauguriamo oggi, insieme alla 22esima esposizione internazionale della Trenaria di Milano, che grazie allo stimolo straordinario di Paolo Antonelli e del suo team di ricercatori, grazie alle riflessioni di Stefano Mancuso, grazie ai progettisti provenienti da 70 Paesi del mondo e alla presenza di 22 padiglioni nazionali, si interroga su una questione di primaria importanza per il futuro dell'umanità, l'urgenza di ricostituire oggi un equilibrio tra la nostra specie e le altre specie viventi, tra la dimensione antropica e quella animale e vegetale, tra la natura e la città. Le città, come sappiamo, sono la principale manifestazione sulla superficie del pianeta della vita della nostra specie. Sappiamo anche, grazie alle ricerche e gli studi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che gli ambienti urbani nel 2030 ospiteranno circa il 60% della popolazione globale del pianeta e che la loro espansione nei prossimi decenni continuerà in modo incessante, soprattutto nel continente asiatico e in quello africano. Anche se, in termini puramente geografici, le città non occupano più del 3% della superficie delle terre emerse del pianeta, in termini di impatto ambientale il loro ruolo è enorme. Le città consumano infatti il 75% delle risorse naturali del pianeta e sono responsabili dell'emissione di oltre il 70% dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera, a sua volta l'anidride carbonica, principale causa, come sappiamo, del suo riscaldamento del pianeta, del conseguente scioglimento dei ghiacciai e degli effetti disastrosi che inondazioni, tifoni e perturbazioni meteorologiche hanno sulle città stesse. La crescita continua degli aggobernati urbani collegata all'industrializzazione e al consumo di fonti fossili è, dalla metà del XIX secolo, la causa prima della grande accelerazione che sta sconvolgendo il clima del nostro pianeta. Meno noto è il ruolo di riequilibrio, che le foreste, i boschi, gli oceani e i mari del nostro pianeta svolgano a protezione della vita. Foresti e oceani assorbono da soli il calore e circa il 60% dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera terrestre. Proprio quelle foreste che ogni anno all'estensione delle città e dell'abitato umano riduce e mette in rischio, proprio quegli oceani che ogni anno di più diventano il deposito delle plastiche e dei nostri rifiuti inquinanti e non biodegradabili. Proprio loro, le foreste e gli oceani, rappresentano infatti la prima grande risorsa per aiutarci a fermare o quantomeno rallentare il progressivo riscaldamento del pianeta e le sue conseguenze drammatiche, a partire dalle catastrofi naturali, dalla progressiva desertificazione di parti del pianeta e dalle inarrestabili e forzate migrazioni di popoli che essa determinerà, fino ad arrivare ai rischi oggi effettivi di estinzione della nostra specie. In una fase della nostra storia in cui i tempi lunghissimi di evoluzione del pianeta Terra sembrano improvvisamente coincidere e interagire con i ritmi velocissimi della vita umana e delle nostre scelte quotidiane, la Trenale chiama oggi la cultura internazionale del progetto a trovare soluzioni pratiche, efficaci, pragmatiche, per rallentare il cambiamento climatico. L'invito della 22esima Trenale di Milano a riflettere su come si possa restituire alla sfera naturale quanto in questi secoli e in particolare negli ultimi decenni l'è stato sottratto, va dunque inteso non solo come un progetto di compensazione nel rapporto tra uomo e natura, ma anche come l'invito a ripensare la natura come parte integrante della nostra vita e del futuro dell'umanità, come ha indicato con grande forza l'encichica laudato sì di Papa Francesco. Per questo il messaggio che questa 22esima edizione della Trenale internazionale rivolge a tutti noi è duplice. In primo luogo, come anticipato nel novembre scorso nella dichiarazione congiunta dei 16 capi di Stato e di governo europei, sottoscritta e promossa da lei, Presidente Mattarella, le idee e i progetti ospitati in queste sale ci ricordano che la ricerca di un nuovo rapporto tra uomo e natura e la lotta al cambiamento climatico richiedono oggi una nuova dimensione, una dimensione planetaria della geopolitica. Abbiamo bisogno di una geopolitica che coinvolga gli Stati, i governi nazionali e regionali, le municipalità urbane e metropolitane, le grandi imprese della rivoluzione digitale e le aziende multinazionali dell'energia, gli stakeholders privati, i centri finanziari di tutto il mondo in una straordinaria sfida per la sopravvivenza della specie umana. Una sfida che ci aiuti e che aiuti a superare le differenze e le idiosincrasie che ancora oggi contraddistinguono la politica internazionale dei governi, che aiuti a capire che ogni scelta autoreferenziale, ogni scelta di chiusura, indebolisce e rallenta al fronte di una campagna globale per rallentare e invertire il cambiamento climatico. Creare ponti di conoscenza e sperimentazione, condividere azioni politiche rigenerative, fare comunità dell'esperienza dei progetti, superare i muri, superare i confini, sia di tipo nazionale che di tipo disciplinare, è infatti l'unico modo per affrontare una sfida decisiva per il nostro futuro. In secondo luogo, le installazioni e i progetti contenuti in questa esposizione sono un invito preciso e puntuale a tutti noi, un invito a ripensare il nostro stile di vita, i nostri costumi, le nostre scelte quotidiane. Cambiare lo stile di vita di miliardi di esseri umani non potrà mai essere il risultato di politica nazionale autoritaria o imposte dall'alto. Per questa ragione, in una fase storica in cui nella geopolitica internazionale prevale spesso l'atteggiamento distinto verso la chiusura, l'isolamento, le istituzioni culturali, come la triennale, le istituzioni culturali internazionali assumono un ruolo cruciale nel fare rete e diffondere oltre i confini nazionali e le barriere protezionistiche, una cultura ambientale olistica e transdisciplinare che trasmette a tutti gli abitanti del pianeta il messaggio potente e insieme pragmatico di un grande progetto di rigenerazione dei nostri stili di vita. La verità è che oggi non possiamo eludere nessuna delle soluzioni che in modo più o meno diretto hanno effetti positivi nel contrastare lo squilibrio tra uomo e natura. Una diversa dieta che contribuisca alla riduzione degli allevamenti intensivi, un uso quotidiano e costante nelle nostre case delle energie rinnovabili, una riduzione dei consumi di energia fossile per la nostra mobilità quotidiana, l'abitudine a riusare e riciclare materiali prodotti che altrimenti di inverrebbero scarti e rifiuti, una estesa convivenza sia negli spazi domestici che in quelli urbani con le piante, con gli alberi, in modo da favorire i progetti di forestazione urbana nelle città del pianeta e, prima di tutto, la presenza nelle scuole di tutto il mondo di corsi e laboratori sul cambiamento climatico che permettano alle generazioni più giovani, le vere protagoniste di una sfida da vincere, le potenziali vittime di una sfida persa, di condividere un sapere progettuale, scientifico e creativo, aggiornato e capace di incidere su realtà. Si tratta di scelte spesso locali, individuali a volte, che aprono però il campo a nuove forme di comunità, di cooperazione, di collaborazione creativa, energie non solo culturali ma anche di potente sviluppo economico e produttivo, in grado, tra l'altro, anche di riscattare dalla povertà proprio le popolazioni del pianeta più soggette alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico. Il messaggio più forte di questa ventiduesima triennale è dunque e soprattutto un messaggio positivo, come è giusto provenga da un'istituzione che chiama le culture del progetto a immaginare il futuro del mondo. Oltre alla denuncia degli enormi rischi a cui andiamo incontro come specie vivente, la ventiduesima triennale ci racconta infatti di come la sfida ambientale porti con sé anche la consapevolezza che il mondo che potremo costruire potrà essere migliore, più equo, più bello e aiutarci ad abitare il pianeta rigenerando la vita e gli spazi abitati delle nostre comunità viventi in tutte le parti del pianeta Terra. Grazie per l'attenzione.